Pronto per il premio Marco Van Basten, corsa nazionale, canicesto 213 per l'ipica nazionale, si attende il segnale dello starter, quinta corsa, partiti, dall'interno Golden Acclamation, fa partenza all'esterno finalmente biondi, poi difese, jacquid, ci hanno colto una buona partenza all'ideoratorio all'interno di fuori Provide, Royal Esche e Lara Swinger, non si rispande davanti finalmente biondi, è brillantissimo anche Golden Acclamation che tira molto alla fase iniziale, all'esterno c'è altrettanto brillante difese, però oggi corre in proiezione più, in maniera più, diciamo, avanguardista, con davanti in giallo finalmente biondi, all'interno c'è Golden Acclamation, di fuori Bizese, Lady Oratorio, per l'interno c'è Royal Esche, su parziale questi davanti che hanno preso vantaggio, dai jacquid, Provide, Lara Swinger che trova nel seguimento, con finalmente biondi in vantaggio, su Golden Acclamation, Bizese, Lady Oratorio, così di fronte all'arrivo a 600 dalla conclusione, con Bizese che galoppa all'esterno di finalmente biondi, poi all'interno Golden Acclamation, di fuori si prepara anche Lady Oratorio, che si trascina anche jacquid, Royal Esche, all'interno c'è anche Lara Swinger, quando si va sulla piegata conclusiva, Bizese che è passato in vantaggio, se la deve vedere con Lady Oratorio e soprattutto jacquid che sta risalendo le posizioni all'esterno, jacquid che va allora su Bizese, jacquid che si prepara l'appoggio poco più su Bizese, lo scatto di jacquid su Bizese, jacquid che passa in vantaggio, su Bizese, jacquid che è passato, su Bizese nel tratto finale, jacquid ha preso vantaggio sul rivale, jacquid facile alla meta, su Bizese per la terza, forse Lady Oratorio all'interno, ci salva.